Siamo all'interno delle acciaierie venete, un gruppo immenso che ovviamente consuma moltissima energia ed è sicuramente un punto di riferimento per capire cosa sta succedendo. Ci dia lei il quadro di quello che accade nella sua azienda? Abbiamo avuto ormai da un anno l'esplosione del prezzo dell'energia. I provvedimenti che sono stati presi sono stati vari ma mai definitivi perché purtroppo l'esplosione del prezzo è stata una cosa continua e che ci colpisce già da un anno. La cosa che è successa più frequentemente è stata quella di interrompere la produzione nel corso della giornata quando i picchi del prezzo raggiungono dei livelli che sono insostenibili e per i quali produrre non è più logico. Quindi fate la produzione a intermittenza? Facciamo la produzione a intermittenza, il personale resta all'interno dell'azienda lo stesso perché parliamo di qualche ora all'interno della giornata però si sospende la produzione di acciaio e questo oggettivamente, guardi, solo un po' di qualche anno fa pensare che potesse succedere una cosa del genere all'interno dell'azienda sarebbe stato pazzesco ma l'esplosione del prezzo dell'energia ci ha portato pure a questo e a un cambiamento totale di approccio anche nei temi e nei sistemi produttivi. Quindi non si chiude per periodi però si chiude durante la giornata. Cosa fa il personale in quel periodo? Ma dunque si concentrano i periodi manutentivi in certe ore della giornata. Si purtroppo non si produce, questa è la cosa grave e il fatto di non produrre è un tema molto grave in questo momento anche perché questo tema dell'energia si incentra in un momento in cui gli ordinativi sono a livello importante per cui bisognerebbe seguire il ciclo produttivo ai massimi livelli per produrre e consegnare. Paradossalmente voi avete da lavorare anche in surplus rispetto ai covid sostanzialmente però non potete farlo. Sì, questo è quello che sta succedendo. Molte aziende stanno pensando di chiudere proprio tra settembre e ottobre, voi cosa farete? Allora noi dovevamo ripartire in tutti gli stabilimenti del gruppo che sono un po' sparsi e invece non lo faremo, ripartiremo solo in qualcuno. Questo qua di Padova è ripartito alla fine della settimana scorsa e mentre qualcun altro lo terremo fermo in attesa di vedere che sviluppi si hanno. Certo non è che si possa restare fermi molto a lungo, poi voglio dire che ci sono i clienti con gli ordini che attendono per cui in qualche maniera poi il problema va affrontato. E' per questo che le dicevo, noi siamo convinti che il problema è talmente grave ed è diventato talmente di dimensione fuori controllo che io sono, non voglio dire certo le certezze qua, non sono il tema ma sono, ho una buona speranza che ci debbano essere degli interventi per cercare di incalmirare un po' la situazione. Le ricadute sul lavoro quali saranno? Qualche ora di cassa integrazione può darsi che la si dovrà fare. Ora non è un tema per questo stabilimento qui, Padovano diciamo che in questo momento sta lavorando ed è ripartito post ferie ma in qualche altro stabilimento del gruppo potrebbe esserlo.